Questo è un tipico bagno finlandese, quindi outdoor, ovviamente all'aperto e vediamo come usarlo. Allora, questo è anche molto bello in tema Gilemon. Questa è la tazza in polistirolo. Si apre, quasi quasi qua non mostriamo dentro, c'è la forza biologica. C'è un po' di borotalco che si butta sulla tavoletta per igienizzare un attimo. E adesso basta sedersi sulla tazza e fare i bisognini. Sì, però chiudi la porta dai, momento privato. Prego, e l'ultima parte, c'è proprio anche scritto qua. Per trattenere l'odore via, si prende una bella ciotolata di terriccio, di compost, e la si butta qui. Tutto ecosostenibile.